Shelly, tesoro! Hai voglia di venire con la mamma a fare la spesa? Ah, mamma, ma sto guardando un cartone animato! Dai, tesoro della mamma, fammi compagnia, non mi lasciare da sola! Ti comprerò una caramellina se fai la brava, anche un gelato se preferisci! Un gelato? Sì, 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 vengo subito mamma! Ken? Ken? Sì, Barbie, dimmi! Non vedi che sto guardando la televisione? Ken, era solo per dirti che io e Shelly andiamo a fare la spesa! Sì, sì, andate, andate! Oh, no! Le chiavi, mi sono dimenticata di prendere le chiavi! Eh, no, non ci sono nella borsa! Mannaggia, Shelly, adesso come facciamo? La porta è chiusa, non abbiamo le chiavi! Oh, no, adesso, mamma, come facciamo per andare a casa? Il babbo non ci risponde! Prova a bussare! Mmh! Ken? Ken? Mi senti? Valla, che tuo babbo si è addormentato! Adesso chi chiamiamo? Adesso prova a chiamarlo al cellulare! Speriamo bene! Ecco, come pensavo! Se dorme non sente neanche il telefono! Mmh! Adesso prova a chiamare Orso! Magari mi aiuterà lui! No, 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 no! Mmh! Mmh! Telefono! Pronto? Pronto, Orso? Sì, avrei bisogno di te! Ho un problema a casa! Ken non mi risponde, io non ho le chiavi di casa! Ci viene a dare una mano? Oh, sì, sì, Barbie! Ok, va bene, arrivo! Oh, ciao Orso, grazie di essere venuto Allora, dovresti arrampicarti sulla casa E andare a svegliare Lui è sicuramente di sopra che sta dormendo e non sente niente Devi andare lassù Ok, vado Ken, Ken, svegliati Ken Ken, Ken, svegliati Orso Ma cosa ci fai qui? C'è Barbie che deve entrare, non ha le chiavi di casa Ok, ok, scendo, scendo subito Oh, Ken, finalmente, ti sei svegliato Oh, scusa, scusa Barbie, dormivo, non sentivo niente Venite, venite Grazie Grazie Grazie